Oggi comincia l'Expo di Milano. Sarà una vetrina mondiale per il nostro Paese e rappresenta una straordinaria opportunità, una grande opportunità. Soprattutto perché il tema nutrire gli abitanti del pianeta e dunque garantire a tutti il diritto alla vita è di portata epocale. L'Italia ce la farà, tenendo alti i valori sui quali si fonda la nostra democrazia. L'innovazione è la nostra sida. Il coraggio dell'impresa e la solidarietà di cui è capace la nostra comunità sono garanzie. Buon primo maggio a tutti.